Come ti chiami? Pietro. Pietro, come me ti chiami Pietro, Dio santo. Da quanti anni fai questo mestere qua? Da poco, sono due o tre mesi. Due o tre mesi, hai cominciato ora, ma subito con la bisarca così, due o tre mesi? Ho cominciato con mio padre. Hai cominciato con tuo papà? Ma dove sei? Sei qua della Toscana o no? No, sono di Benevento. Sei di Benevento? Benevento è al sud? È al sud, non faccio delle figure di merda. Non la conosco bene io, la geografia dell'Italia. Cioè, il nord Italia lo conosco. È un'oretta da Napoli diciamo, quindi sì, molto sud. Stai fuori tutta la settimana? Il lunedì del venerdì. Si guadagna bene? Cioè, vale la pena? Ok. Famiglia, bimbi? Ma più che il guadagno, la passione, sicuramente. Sì, assolutamente. Se non c'è quella lì, c'hai i fili per caso? No. Allora ti viene più facile, diciamo, fare questo lavoro per rimanere fuori. Da lunedì a venerdì più o meno. Pietro, è stato un piacere. Grazie mille del tuo tempo. Ciao. 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 Grazie per la visione!